Eccoci qua a voi tutti, come sempre, un saluto a Giuseppe Davittis e ben ritrovati su Meteo Giuliacci. Il tempo nella giornata di sabato tende a migliorare, anche se, attenzione, ancora ci sarà rischio di acquazzoni o temporali. Dove? Intanto, tempo in generale miglioramento un po' dappertutto, come detto, a partire proprio dal nord, dal nord-ovest. Ancora delle nuvole al mattino sul nord-est, sul Friuli Venezia Giulia e sul Trentino Alto Adige nel pomeriggio ne scudiamo anche qualche acquazzone rovescio di pioggia. Ma il tempo peggiore, guardate, lo avremo nelle zone interne, a Pennini, che è dell'Italia centro-meridionale, avremo rovesci di pioggia temporali. Qualche acquazzone sarà possibile anche sulla Puglia meridionale, sul Salento e sulla Calabria nelle zone interne, montuose, sconfinamenti. I nuclei instabili anche sulla Campania, guardate, sul resto del territorio sereno o poco nuvoloso, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare, soprattutto in Sardegna, verso sera e nella notte anche sulla Sicilia. Venti rinforzo da nord sul medio e basso versante adriatico. È tutto cari amici, buon weekend da parte mia, arrivederci.